Piante con rami che toccano terra sull'erba appena tagliata, oppure ciuffi così alti da misurare 70 centimetri. Non esistono mezze misure nel quartiere Po di Cremona, dove viene segnalata incuria generale del verde. A preoccupare principalmente sono le piante del Parco Sartori. Sono state trascurate e lo vediamo appunto dai rami che cadono quasi a toccare terra. Ora la stagione silvana si dice che va per legge, va da ottobre ad aprile. Siamo mai a metà maggio quasi e la cosa non è più fattibile e si va a rimandare a ottobre di quest'anno. L'incuria riguarda anche lo stesso arredo del Parco Sartori, dove panchine di velte restano sul prato da 20 giorni, mentre altre sono mancanti. Un mese fa ho segnalato di una di queste in cemento, che l'hanno proprio abbattuta, sradicata, ci vogliono delle mazzate per abbatterla ed è ancora là. Le ho chiesto gentilmente di poterla rimuovere in attesa di posizionare un'altra ed è ancora là sul posto. Ci siamo spostati nel vicino Parco Biazzi, dove invece l'erba non è stata toccata. Nei mesi primaverili, come aprile e maggio, si dovrebbe accorciare i tempi tra un taglio e l'altro. Il primo taglio l'hanno eseguito all'inizio di aprile e siamo praticamente quasi a metà maggio. È troppo dilattato il tempo e basta giornate di pioggia e sole e l'erba cresce. E questo con otto tagli all'anno vanno bene, io credo. Si va a novembre con otto tagli, ma a novembre diciamo un attimino tardi, ormai l'erba è quella che è. Anche qui l'incuria tocca altri aspetti, come le grate pensate per la pioggia e chiuse dal verde. Sono quattro discese di accesso al parco stesso, perché è affossato rispetto alla via Biazzi. E al termine di ogni discesa abbiamo delle grate di scolo per l'acqua piovana. Sono intasate completamente. Alcune criticità del parco sono segnalate da diverso tempo. Ho segnalato da 5-6 anni, abbiamo ridosso dei condomini di via dei Navaroli, un piopo cipressino che è praticamente sui 25 metri, è all'altezza del condominio ed è completamente rissecchito. Si spera che debba tenere, però io la segnalazione l'ho fatta di più di... Non posso, diciamo così, preventivare quanto può resistere. E poi il fatto del piopo cipressino mi hanno detto che ha questo, diciamo, pregio di fetto, che ha le radici che vanno in profondità e non si allargano e basta poco per farlo crollare nel tempo.